Il mio cuore ha iniziato a battere 70 anni fa, quando Arturo Gilardoni ha capito che io avrei potuto veramente cambiare il mondo. E così è stato. Che siano applicazioni per la sicurezza, la qualità o la salute, la mia azienda progetta e produce in Italia macchine a raggi X per tutto il mondo. Più di 50 ingegneri lavorano con me per sviluppare e migliorare la mia usabilità. E se non mi vedi, sono presente nella vita di tutti i giorni per migliorarla e renderla più sicura. Integrato nei nostri monoblocchi, divento un prodotto resiliente e affidabile, totalmente schermato con 1000 Watt di potenza. Oppure compatto e versatile per molteplici applicazioni, ma anche con un ciclo di lavoro continuo e raffreddato ad aria, magari con uscita a raggi imberili. Posso essere fatto su misura e raggiungere altissime prestazioni. Contattaci per trovare il modo migliore di utilizzare i nostri monoblocchi all'interno del tuo progetto. Ti supportiamo in ogni fase, dalla progettazione alla creazione del prodotto, fino al servizio post vendita. Gilardoni, imaging the future, since 1947.